Un premio per tesi di laurea legate al territorio valtrinese, la giornata di studi che riunirà a Sondrio relatori di primo piano. Tutto nel nome di Lisa Garbellini, giovane ricercatrice sondriese della Fondazione Irealp Prima di Ersaf Poi, scomparsa prematuramente nell'agosto di sei anni fa. Lisa Garbellini, una cara amica di tante persone, tra cui anche il sottoscritto, una persona che si dedicava al territorio della Valtellina, alla ricerca, si dedicava a vivere la Valtellina sotto tanti profili. Amava la sua terra. Noi fondando l'osservatorio sulla Valtellina, che gira attorno al premio di laurea ricordo di Lisa Garbellini, che ha il compito di dare la possibilità ai giovani, i giovani studiosi, di presentare dei lavori, delle ricerche svolte nell'ambito della parte finale del percorso di laurea, un lavoro che abbia per oggetto la Valtellina. Per la quinta edizione sono stati istituiti i premi in denaro. Per le tesi di laurea di particolare valore scientifico potrà essere riconosciuto un premio che consisterà in un percorso retribuito di formazione. Le ricerche che possono essere di qualsiasi tipo, perciò lauree dalla medicina, alla matematica, all'ingegneria, al diritto, alla storia, possono avere per oggetto la Valtellina e possono partecipare a questo concorso. I premi sono importanti perché negli anni, grazie a ERSAF, alla CIS e alla Cooperativa Sociale Ipogrifo, si è sempre creata la possibilità di un percorso lavorativo retribuito per la tesi che risulta vincitrice del premio. Si sono create delle possibilità fuori anche da questo concorso per cui diversi soggetti hanno chiesto di conoscere, di intercettare l'autore di una determinata tesi per poter poi sviluppare progetti e collaborazioni. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata entro il 30 settembre alla Cooperativa Sociale Ipogrifo di Sondrio o alla libreria Tirali Stori di Tirano. Il primo dicembre c'è la giornata di studi Ricordo di Lisa in cui verrà presentata anche la rivista Percorsi Valterlinese che contiene la rivista Gli Estratti delle Tesi dei Partecipanti al Bando.